Per aggiungere un profilo orario per i Door Station in Ipassan Manager, cliccare sul pulsante Utenti e Profili di accesso. Quindi utilizzare le opzioni a discesa sul lato sinistro per selezionare Time Profile e poi Door Station Time Profile. Inserire un nome per il nuovo Time Profile. Quindi selezionare i periodi in cui il nome dei Door Station selezionati sarà visualizzato o nascosto. Una volta fatto ciò, è sufficiente fare clic su Salva. A questo punto i nuovi profili orari dovrebbero essere visualizzati sul lato sinistro.